Ok ragazzi, anche se sono stanco, ho deciso di fare un ultimo video perché altrimenti il prossimo sarebbe troppo pieno di lettura e descrizioni dei tesori e così via quindi finisco la giornata anche se è ancora presto Oh e c'è la musica vittoriosa, credo, oppure il tema di lui non lo so Comunque credo che sia il tema di quando si completa un dungeon Così leggerò la posta del giorno e descrizione dei nuovi tesori in questo video e così risparmierò tempo per il prossimo Chi lo sa cosa faremo, ma Credo che proveremo a affrontare il secondo dungeon della sorgente Della foresta Sette gialli, due rossi, quattro viola e il resto sono aumentati 5 in battaglia e 19 per un'esplosione Scandaloso Se riesco a fare sotto le 200 perdite O le 150 sarò contento per la fine del gioco Olimar, sei il mio eroe! Hai ripianato metà del debito Le cose però si fanno più pericolose e andrò a nascondermi Pensa al lavoro e non abbassare mai la guardia Okidoki, President Whatever you say, Mr. President Bang! Allora, piccolopedia rapidamente Abbiamo il coleto peloso Che non ho mai... Svegliati, per favore Non li vedo quasi mai svegli Perché li sconfiggo sempre prima Poi Lo scarabeino corazzato Con i suoi massi Devastanti Oh, groi incarmato Quanto li odio Non capisco nemmeno cosa sono Pesci, macchina, umanoide Vla... Schifo Octorok Ok Il dittero maldestro Oh, che sembra avere una sacca di... È la sua faccia, quella? O lo suo stomaco? O qualcosa? Non lo so Ah, poi il dirigibaco Sono bombe malefiche Sono i palloncini da up L'opiliode velenoso Che è tale e quale all'altro opiliode Soltanto che emette veleno invece di fuoco Opiliode bomba E come vedrete È l'opiliode kamikaze Che si fa esplodere E poi non c'è più Morte indiretta Con Piero Angela Oggi parleremo dell'opiliode bomba Che tende a suicidarci A suicidarsi Ma ora mi rimpicciolirò E entrerò dentro di lui Per vedere cosa succede Ah 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 Ok, basta Poi la cromanvillea regina Bellissima Bellissima E con un effetto straordinario Ah, poi abbiamo una lampione Lo stelo iridescente E il bosque, eh Oh, wow Ragno macchina Ragno macchina È essenzialmente Uno piglio De Terzo romato in macchina Ma da chi? Non lo so Cribbio Magari in pigmin 3 Esploreranno un po' La questione Vorrei Vorrei sapere Chi crea queste cose Magari c'è un Un essere Simile A Olimare Lui Che crea queste cose Ma I tesori Uff Sono un sacco Allora Disco Mistico C'è uno strano motivo Su questo piatto metallico Mi fa venire Dei brividi mistici Chissà Forse gli esseri viventi Non sono destinati A capirne il vero significato Il processore aspirante Di recente abbiamo trovato Una serie di pezzi meccanici Sparsi all'interno di una grotta I muri del pavimento Erano fatti di acciaio massiccio Chissà Forse una volta Era una fortezza militare Per formiche forse Allora lo chiamerò Roccaforte segreta Il chip indomito Questo potrebbe essere Un componente di computer Catarifrangente Ipertecnologico Ok Catarifrangente Perché? Un computer Dovrebbe essere Catarifrangente Forse posso usarlo Per ingrandire la navicella Con una proiezione Ologramma Cervellone di rete Secondo le mie ricerche Si tratta di una scheda madre Di interferenza audio Dovrei installarla Sulla navicella Così forse starebbe zitta Per un po' Miglior idea Del secolo Fallo Olimar Fallo Mi ha anche bloccato Mentre pieterificavo il boss Tuttavia Se imparasse a ignorare L'hardware Diventerebbe ancora più Scorbutica Di quello che è Ricevitore spaziale Il sensore capta Radiazioni nocive Provenienti dallo spazio Si tratta di un pezzo Meccanico molto pericoloso Da trattare Con estrema cautela Adesso che ci penso I pimmink L'hanno portato Sembravano un po' Storditi Durante il trasporto Piatto deco Ho trovato diversi oggetti Deco Ho trovato diversi oggetti Che sembrano combaciare L'uno con l'altro Ma non so cosa siano La navicella vuole venderli A collezionisti d'arte moderna Aliena Ad un prezzo esorbitante Forse ha fiutato qualcosa di grosso Il volano Omega Raccogliere tutti questi pezzi meccanici Mi ricorda il giorno In cui sono precipitato Su questo pianeta Nell'urto Ho perso 30 componenti Importanti della mia navicella L'ho dovuto raccattare come un pazzo Uno per uno Vediamo che il sistema di sopravvivenza Si spegnesse Chissà da che tipo di macchina Proviene questo volano Eh Questa in pratica era La storia del primo gioco 30 pezzi da raccattare In 30 giorni Massimo Il fustigatore di spirito È da molti anni ormai Che la mia vita scorre lenta e monotona Come l'ingranaggio di una macchina A volte mi fermo e penso Ma sono davvero felice? No Non sono Non posso pensare a queste cose Ci sono già I filosofi che lo fanno per noi Devo concentrarmi sulla mia missione Oh scusate Il super fissatore Nella cavità esplorata oggi Ho trovato diversi manofatti come questo La temperatura dentro questa grotta Era molto bassa E il tesoro era quasi congelato Mi dispiace per i pigmin Che hanno dovuto trasportarlo Alla fine le loro manine Erano tutte intirizzite LOL Bestione fissa tutto Questo oggetto deve essere stato creato Molto tempo fa Da un qualche marchigineo Allora non c'erano i bei giocattoli Che hanno i bambini Oggigiorno Mio figlio è appassionato Dei videogiochi Ehi forse io sono suo figlio Mentre io sono una schiappa Mi prende sempre in giro Un attimo Lui è giovane Deve essere un mago Con i videogiochi Mi darà di sicuro Delle ottime dritte Ma È vero che i genitori Non sono sempre Quasi mai Dovrei dire Bravi nei videogiochi Fascia massiccia Fascia massiccia Sembra esserci un nesso Tra i vari tesori Che abbiamo trovato Nella struttura sotterranea Abbiamo trovato Molti pezzi meccanici Che corrispondono Uno con l'altro Potrebbero Potrebbero essere Questa la Potrebbe essere questa la chiave Per scoprire La funzione originale Di quest'area Che fosse un laboratorio Per un esternino Minuscolo Che ha creato Il ragno meccanico Nastro esaurito Questo materiale È perfetto Per rattoppare le fale Nel veicolo spaziale Peccato che ne abbiamo Solo uno La navicella Ne ha un sacco di buchi Quello per la bocca Potreste chiuderlo però Adesivo furioso Dalle mie analisi Risulta che questo oggetto Possiede potenti abilità adesive Chissà se esiste qualcosa Di più appiccicoso Credo di no Ma l'universo È così immenso La molla Spirale di lancio Una volta ho provato A farci un giro Ma era troppo veloce E mi sono venute le vertigini Forse potrebbe essere usato Come giostra Ai più piccoli piacerebbe Io di sicuro Non ci salerò più Le sardine In questi dieci anni Di lavoro L'ho quotata ai trasporti E ho visto i più strani E meravigliosi tipi Di recipienti Ma una cosa così Non l'avevo mai vista Lo chiamerò Il recipiente perfetto È l'ultimo Sì Credo di sì Il globo stellare La tecnologia di questo affare Sorprendente Mi è del tutto sconosciuta Assomiglia agli intensi raggi del sole A forza di esplorare Sono diventato bianco Come un cencio Potrei usare questa sfera Per rubare un po' di raggi Olimar abbronzato No grazie Ok Wow Nove minuti e mezzo Di lettura Tesori Quindi vi ringrazio Di aver guardato Questo video Anche se era un po' monotono Se non l'avete guardato Non vi siete persi molto A meno che non vi interessi La descrizione Degli oggetti E dei tesori Quindi Alla prossima In cui Andremo a Alla sorgente sconcertante Alla scoperta Di Nuovi Tesori E Nuove Grotte Quindi alla prossima Grazie di aver guardato il video Ci vediamo Ciao Ciao